Non è sorprendente che l'uomo più potente del mondo debba essere una figura controversa? Tutta la popolazione di questo pianeta era alla ricerca di un salvatore. Stiamo parlando di un essere la cui stessa esistenza cambia il nostro concetto di priorità nell'universo. Gli esseri umani hanno una brutta abitudine di seguire persone di grande potere. Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe in modo assoluto. Forse è solo uno che cerca di fare la cosa giusta. Adesso lo sappiamo con certezza. È fuori controllo! I demoni non vengono dall'inferno sotto di noi. Non hanno portato qui la loro guerra. Vengono dal cielo. Il mondo è stato così assorbito da ciò che lui sa fare che nessuno si è mai chiesto cosa avrebbe dovuto fare. Oddio! 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 Comincia così. La febbre, la rabbia, il senso di impotenza che rende gli uomini buoni, crudeli. Dimmi tu sangue. Lo farai.